è partito da milano il progetto non solo covid hcv free l'iniziativa che vede il supporto non condizionante di gilead persegue l'obiettivo di offrire il test per la ricerca del virus dell'epatite c a tutti i pazienti che accedono ai centri psicosociali della asst santi carlo e paolo di milano ne parliamo con il dottor roberto ranieri dottor ranieri può spiegarci che risultati avete ottenuto da questo progetto ecco il primo risultato che io ho sempre espresso che volevo ottenere al di là del fatto dei numeri di test che adesso dirò sono stati somministrati se io somministro dei test senza aver creato un percorso diciamo a monte di questi test non è stata solo una somministrazione come succede in tante giornate che per carità siano benvenute ma hanno quell'effetto così acuto non so come dire che non mantiene poi un sistema quindi la sulla scorta dei precedenti esempi che avevamo avuto essendo io diciamo ormai un esperto di esperto naturalmente con tutta la dovuta modestia di ambiti diciamo difficili avevamo visto che facendo un trattamento nei detenuti in questo caso mi riferisco a quelli di milano anche la tasse abbiamo fatto anche in altri centri e a milano abbiamo ottenuto il fatto che sono tutti trattati in questo momento anche nel momento in cui le parlo così come in altri centri italiani adesso ormai questo fatto l'abbiamo trasposto ai servizi per le tossicodipendenze tenendo presente che le utenze molto spesso purtroppo sono sovrapponibili da partendo da questo modello quindi utilizzando le stesse persone le stesse modalità abbiamo detto trasponiamo questo sistema a livello del centro di salute mentale che vuol dire prima di tutto formare gli operatori perché come dicevo prima gli operatori stessi non erano consapevoli dell'impatto di questa attività secondo luogo formare gli utenti quindi abbiamo fatto questo percorso di preparazione abbiamo preparato nel caso nostro con l'ospedale san paolo abbiamo iniziato da un centro di salute mentale che era quello proprio diciamo anche fisicamente vicino all'ospedale proprio per dare anche un discorso di prossimità preparando la coordinatrice infermieristica a questo e dalla prossima settimana lei con alcuni altri colleghi che si sono resi disponibili eseguirà lei direttamente i test il terzo la terza parte del percorso era quello di individuare chi naturalmente non si poteva fare nei pazienti che non avevano in quel momento non erano compensati dal punto di vista psichico perché sì che quello poteva costituire quindi partendo da quelli che abitualmente frequentano il centro di salute mentale in analogia a quello che succede in quelli che vanno a prendere e fare trattamenti metadonici nei serd perché c'è un'abitudine ad afferire al servizio tant'è vero che dopo i primi test siamo arrivati al punto che verrà effettuato settimanalmente o due volte la settimana in quelli che afferiscono al servizio per prendere le varie terapie e quindi noi fino a questo momento devo dire che abbiamo fatto siamo a 180 circa 200 test eseguiti ma il problema è che sono stati eseguiti ad hoc non so come dire cioè una situazione che anche educato al di là del fatto ecco devo dire che sorprendentemente non abbiamo trovato tanti positivi quanto mi sarei aspettato perché sono dieci quelli che sono risultati positivi per gli anticorpi e soltanto tre per il virus che vi remici in realtà non mi sorprende fino a un certo punto per il motivo che ho detto prima facendo parte del circuito comunque afferente all'ospedale santi paolo e carlo dove comunque noi avevamo già trattato quelli afferenti ai serd quelli afferenti agli istituti penitenziari c'è e dimostrato adesso dimostreremo anche faremo un lavoro su questo fatto che c'è comunque una riduzione nella zona della circolazione del virus c nel mio pensiero è più importante per creare un sistema perché poi lo screening viene da sé così come la diagnosi e così come il trattamento ci da un commento su questa iniziativa e sulla sua eventuale riproducibilità in altri contesti e quale potrebbe essere quindi la sua evoluzione come l'ho detto allora il primo punto che mi farebbe piacere potesse scaturire da questa iniziativa a parte diciamo un effetto un pochino domino sugli altri centri di salute mentale attraverso la formazione anche in altre città riproducendo la rete che abbiamo fatto con i colleghi dei serd e dei carceri in tutta la regione lombardia che ormai è funzionante a questo punto si tratta di agganciare un po tenendo presente che serd e cps fanno parte del dipartimento di salute mentale quindi sono proprio prossimi e questo è un primo punto mi piacerebbe che questi dati che noi raccogliamo potessero servire come è stato nel caso dei dati dei serd e dei carceri perché se noi andiamo a eliminare alcune popolazioni in alcune popolazioni non in altre ancora una volta ma interremo mentre invece è documentato che avendolo fatto in alcune di esse già si sta riducendo la circolazione del virus quindi mi aspetterei questo nel caso nostro noi ci sposteremo diciamo fisicamente su altri su altri cps così come fatto assolutamente per i serd in cui diciamo predisposto all'azione in un po ripetiamo la stessa azione anche in altri c'è un'azione anche da parte dell'ospedale di niguarda io sto cercando di sollecitare anche a livello sia regionale che nazionale questo tipo di intervento che anche chiaramente non potrà essere dappertutto però se alcuni centri virtuosi in cui esiste già una rete con le carcere con i serd questo fatto si potesse riprodurre cosa analogamente sto facendo anche nei paesi europei dove c'è un po di sonno come a livello italiano su questi tipi di interventi e quindi stiamo cercando di creare alcuni modelli anche a livello di sdc cose in cui nel fratto stanno prendendo i modelli italiani per cui una volta tanto non è vero che lavoriamo sempre male che un risveglio da questo sonno diciamo generale